Buongiorno da FTI Online, partenza positiva per la borsa, il Fuzi Mib in questo momento guadagna lo 0,55%, siamo a 21.400 punti circa. Il rimbalzo sicuramente è benvenuto dopo la flessione di due giorni fa, è già iniziato ieri dopo il test del 38% di retracement del rialzo dai minimi di aprile, vediamo però che sul grafico intraday per il momento l'elemento più caratterizzante è la violazione della base del canale crescente che parte dai minimi di aprile, avvenuto tra l'altro con un gap ribassista a conferma della decisione del movimento al ribasso, per il momento il rimbalzo delle ultime ore è sicuramente benvenuto, ma non cambia le carte in tavola, l'ultimo segnale importante è quello negativo che abbiamo ricevuto due giorni fa e per il momento la fase di ritorno potrebbe avere solo una natura correttiva, se dovessimo salire al di sopra di 21.500 in quel caso, pur mantenendo sempre un atteggiamento prudente, potremmo iniziare a pensare alla possibilità di un tentativo di ricopertura del gap ribassista del 17 maggio e quindi di un ritorno fino ai 21.700, 21.720 punti, per il momento quindi come dicevamo mantenere l'atteggiamento prudente e sfruttare questi rimbalzi per neutralizzare eventuali posizioni rischiose in essere. Ci sono comunque alcuni titoli che si stanno comportando abbastanza bene, questa mattina in particolare il settore del cemento, Boots Unicem sta rimbalzando con forza, siamo a 23,13 Euro, Beringel ha arzato la raccomandazione sul titolo a buy da hold, come vediamo un target price che è portato da 23,40 Euro a 27,20 Euro, questa è la motivazione e la base del forte rialzo di oggi. Ci sono anche ragioni di tipo tecnico, se andiamo a guardare il grafico a candele giapponesi ci accorgiamo che è comparso ieri questo Hammer o per sia una candela che spesso fa la sua comparsa in prossimità di livelli di supporto importanti e fornisce quindi lo spunto per rimbalzi anche significativi. I minimi di ieri a 21,55 sono praticamente coincidenti con quelli del 18 di aprile, è quello il supporto che il titolo ha incontrato e che ha permesso la creazione di questo Hammer, questa mattina siamo nuovamente al di sopra dei 23 Euro, come abbiamo detto per l'indice rimbalzi di questo tipo dopo una fase negativa così violenta come quella che ha caratterizzato l'andamento di buzzi sono da interpretare inizialmente come un elemento correttivo, se dovessimo però risalire al di sopra del 50% di retracement che si posiziona a 23,40 Euro, quindi nemmeno troppo distante dai prezzi attuali, in quel caso la presenza dell'Hammer potrebbe assumere un connotato diverso, potrebbe rappresentare effettivamente l'avvio di un tentativo di ripresa del treno di alzista, notiamo che nel recente passato c'era stata questa lunga fase laterale che i prezzi hanno cercato di superare nelle giornate del 5 e dell'8 di maggio, la resistenza nuovamente continua a offrirsi come ostacolo in area 24,70, se il prezzo adesso saliva di sopra di quei livelli ancora una volta potrebbe essere questa l'effettiva ripresa del treno di rialzista di medio e lungo periodo e l'ampiezza della fase laterale diventerebbe a quel punto un metro con il quale misurare il potenziale di rialzo del titolo che a di sopra di area 24,50,25 potrebbe puntare direttamente ai 28,50 Euro come target, se dovessimo ridiscendere invece nuovamente nell'ambito dell'Hammer di ieri, quindi discesa a di sotto dei 22,40 Euro, potrebbero fare temere almeno un nuovo test della base del trading range, quindi nuovamente movimenti sui 21,44 Euro, sarebbe difficile capire però perché il titolo ancora una volta dovrebbe tornare su questi prezzi senza scendere di sotto il supporto, quindi se dovessimo assistere a una nuova fase di debolezza, questo potrebbe essere per violare la base del trading range e riportare le quotazioni almeno sui 19 Euro. Quindi su Buzzi grande attenzione, potenziale notevole, ma forse ancora mancano conferme per sbilanciarsi a rialzo che verrebbero al di sopra dei 23,50 Euro. Questa mattina anche Cementir 5,25 Euro, la chiusura di ieri è stata a 5,21 Euro, abbiamo avuto una violenta accelerazione al ribasso nelle sedute dell'11 e del 12 di maggio, c'è stato poi un rallentamento nel tasso di ribasso, i prezzi si sono praticamente arrestati su 38,2 retracement del rialzo dai minimi di febbraio, quindi il supporto effettivamente è credibile e anche la fase di reazione che sta interessando il titolo a questo punto potrebbe dimostrarsi un fenomeno duraturo. Del resto, negli ultimi mesi abbiamo visto un tentativo di rimbalzo, poi corretto quasi interamente, una nuova fase rialzista per chi segue le onde di Elliot, questo è l'inizio di una potenziale fase impulsiva con una onda 1 fino ai massimi di settembre lo scorso anno, una 2 che è terminata con i minimi di inizio dicembre e questa che possiamo contare in 5 onde, 1, 2, 3, 4, 5 potrebbe essere la 3 che dovrebbe essere quindi seguita da una 5 rialzista che se ipotizziamo già partita dai minimi di ieri potrebbe evolvere con obiettivi fino ai 6 Euro e 60 circa, ipotizzando l'equivalenza di ampiezza tra onda 1 e onda 5. Vi faccio notare, sempre per chi segue la teoria delle onde di Elliot, volevo farvi notare quello che stiamo dicendo che è supportato dalle proiezioni Fibonacci, abbiamo preso l'ampiezza dell'onda 1, quindi il movimento che c'è stato dai minimi di luglio ai massimi di settembre dello scorso anno, l'abbiamo proiettata con le proiezioni Fibonacci da quelli che abbiamo detto essere i minimi dell'onda 2, quindi il minimo del 5 dicembre, il target di onda 3 ottenuto in questo caso è dato dalla proiezione di 1,618 volte l'ampiezza di onda 1 ed è stato toccato esattamente con i massimi del 10 maggio, quindi questo rende credibile la nostra ipotesi di movimento impulsivo, ovviamente bisognerà vedere se effettivamente quelli toccati in assoluto ieri sono i minimi di un'onda 4, ma in ogni caso l'evoluzione a rialzo sembra molto probabile. Passiamo ora a altri due titoli abbastanza interessanti, Interpampe che questa mattina sta cercando di riprendere la sua tendenza rialzista, vediamo il rialzo continuo che c'è stato ai minimi dello scorso novembre, siamo al di sopra dei 25 Euro, per il momento la fase crescente che è sostenuta dalla trendline che è possibile disegnare dai minimi dello scorso dicembre non è stata intaccata, il movimento di rialzo aveva avuto una accelerazione a partire dal mese di marzo, vediamo infatti questo andamento quasi parabolico, ma anche i supporti più vicini rimangono intatti, quindi la flessione delle ultime sedute si può considerare un movimento solo correttivo, i minimi di ieri hanno toccato la media mobile a 20 giorni, ma la chiusura si è posizionata ben al di sopra di questo supporto che secondo noi continua ad essere valido intorno ai 24,35 Euro, quello è il livello di prezzo che deve essere rispettato a questo punto perché le quotazioni possono tentare un nuovo test dei 26,57 Euro che sono il massimo di metà maggio. Il trend di lungo termine come vediamo è caratterizzato da un rialzo continuo, è vero che le oscillazioni delle ultime settimane avevano comportato lo sconfinamento in ipercomprato da parte dell'RSA 14 giorni, ma è anche vero che con il ribasso agli ultimi giorni l'indicatore è ritornato in area neutrale vicino al 50%, quindi nulla ostacola a questo punto una ripresa del rialzo che ripetiamo se i prezzi sapranno mantenersi di sopra dei 24,35 Euro, 24,40 Euro potrebbe anche estendere oltre i massimi di 26,57 Euro per spingersi fin verso 28 Euro almeno. Diamo un'occhiata a questo punto anche a Fincantieri perché questa mattina si muove decisamente a rialzo, siamo di sopra di 0,89 Euro, nel corso delle ultime giornate c'era stata questa incertezza a contatto con gli 0,80 Euro che ha permesso la creazione di una figura a doppio minimo, il lato superiore al doppio minimo si colloca a 0,87,80 è il massimo del 16 di maggio, quindi questa mattina siamo di sopra di quei livelli e a questo punto questa figura si può utilizzare come base per un tentativo di ritorno sui massimi del 10 di maggio a 97,40 centesimi. Se le quotazioni dovessero salire anche a di sopra di quei livelli, avremo la conferma della ripresa del bel trend rialzista che c'è stato dai minimi dello scorso anno e ci sarebbe la possibilità di vedere estendere il rialzo con una prospettiva di crescita che in questo momento è condizionata dalla mancanza di riferimenti storici passati, è difficile trovare quindi un target per la fase attuale di crescita, riteniamo però che il ritorno almeno in area 1 Euro sia del tutto possibile al di sopra dei massimi del 10 di maggio, solo se dovessero ridiscendere al di sotto della base della fase laterale del doppio minimo che abbiamo identificato intorno agli 0,80 Euro, in quel caso potrebbe aprirsi un rischio di una correzione estesa di tutto il rialzo che c'è stato dai minimi della scorsa estate, quindi i movimenti tra i 0,65 e i 0,70 Euro non si potrebbero in quel caso escludere. Prima di salutarvi, guardiamo come sempre se ci sono commenti in chat da parte vostra, ci sono richieste riguardo a Brembo, diciamo che Brembo possiamo dare un'occhiata, c'è stato un movimento di storno abbastanza preoccupante nell'ultimo seduto e questa mattina siamo tornati a 71 Euro, una situazione grafica sicuramente interessante, ricaviamo adesso il grafico giornaliero, come dicevo lo storno delle ultime sedute anche in questo caso è stato frenato dalla comparsa di una candela rialzista, c'è questo Hammer che ha interrotto il violento ribasso che c'era stato dal massimo dell'11 di maggio, il ritorno a 71 Euro di oggi per il momento non basta per invertire il trend ribassista che si stava sviluppando, infatti guardiamo che in termini di ritracciamenti fibonacci siamo appena sul 38,2% della precedente discesa, sarebbe importante che i prezzi riuscissero a superare anche area 72,10 per lasciare intendere la possibilità di un ritorno sui massimi di 76,40. La cosa preoccupante nell'osservazione del grafico di Brembo è che questa fase correttiva è stata molto decisa e nel recente passato guardiamo ad esempio una situazione di questo tipo dove a seguito di una fase correttiva molto decisa c'è stato un rimbalzo, ma poi la fase correttiva è proseguita prima che il trend rialzista potesse ripartire, quindi attenzione perché molto spesso sul movimento del genere il primo rimbalzo che può addirittura riportarsi anche sull'origine del ribasso iniziale, quindi nulla vieterebbe il ritorno sui 76 Euro, attenzione però perché molto spesso questo primo rimbalzo non è quello determinante per ristabilire il trend rialzista, ma ne serve un secondo, quindi potrebbe esserci un ritorno anche verso i massimi di maggio, ma nuovamente poi una flessione prima che i prezzi possano salire decisamente a di sopra dei 76 Euro, quindi limitare l'operatività a breve termine e tenere presente che in area 76,76 e mezzo potrebbero realizzarsi nuovamente degli storni anche importanti. Con questo vi ringraziamo, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il consueto convento giornaliero.